Per i giovani c'è sicuramente il buon trend di chiaranzia giovane, nel senso che ci sono già 9.000 tirocini attivati e se ne prospettano altrettanto, ma soprattutto andiamo a meno di trasformare in contratto di lavoro il 20%, questa non aumenta la media delle statistiche generali. A 10 tirocini corrispondono al meglio rapporto di lavoro, più o meno stati.